In questa seconda settimana di Quaresima, la liturgia ci invita a contemplare il mistero luminoso della trasfigurazione di Gesù Cristo su un alto monte, alla presenza di tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni. A questa manifestazione della gloria di Gesù erano presenti anche Mosè ed Elia che conversavano con lui. L'Evangelista Matteo sottolinea come il volto di Gesù brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Per i discepoli si tratta non solo di un'esperienza visiva ma anche di un'esperienza di ascolto. Dalla nube si udì infatti una voce che diceva, questi è il figlio mio l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Nel testo di Matteo che abbiamo ascoltato, questa teofania che richiama il racconto della manifestazione di Yahweh sul Sinai, avviene sei giorni dopo la professione di fede di Pietro in Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, e l'annuncio da parte di Gesù della sua passione, morte e risurrezione. Questo collegamento con gli eventi precedenti ci permette di comprendere meglio il significato di questo episodio della vita di Gesù in cui egli, in un luogo indisparte, su un alto monte, mostra il suo splendore, la sua gloria divina. Un primo aspetto è che nella trasfigurazione di Gesù è anticipato l'annuncio della sua risurrezione, del suo trionfo sul peccato e sulla morte, che inevitabilmente attraversano il mistero della sofferenza e lo scandalo della croce come manifestazione suprema dell'amore di Dio per l'umanità che viene rigenerata a vita nuova. Un altro aspetto altrettanto importante è che attraverso questo episodio viene affermata la dignità e il ruolo decisivo di Cristo nel disegno di salvezza. E questo è il Padre a farlo. Nella persona di Cristo, infatti, risiede la pienezza della rivelazione dell'amore di Dio che è iniziata con l'antica alleanza del Sinai. Cristo è il compimento delle promesse messianiche. In Lui trovano il compimento la legge e i profeti. Infatti, mentre nei tempi antichi Dio aveva parlato per bocca dei profeti, nella pienezza del tempo parla per mezzo del figlio suo. Da questa rivelazione definitiva di Dio in Gesù Cristo scaturisce la chiamata del Padre a mettersi in ascolto del figlio. Infine, l'epifania della gloria di Gesù, la sua trasfigurazione e anche l'anticipazione di quello che accadrà a coloro che contemplano questo mistero, ai discepoli. Quindi la nostra trasfigurazione è il riflesso della partecipazione alla trasfigurazione del Signore che è avvenuta sul monte. L'umanità di ogni persona, l'umanità di ciascuno di noi è ora assoggettata alla gloria del corpo di Cristo. Gesù prese con sé i suoi discepoli e la sua trasfigurazione della gloria del corpo di Cristo. Gesù prese con sé i suoi discepoli e la sua trasfigurazione della gloria del corpo di Cristo. Gesù prese con sé i suoi discepoli Ascolta, oh Signore, la mia voce io grido a mi pietà Come rispondiamo alla parola di Dio che abbiamo ascoltato? Che cosa questa parola ci invita a fare? Bene, nell'episodio della trasfigurazione di Gesù Cristo davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni l'invito di Dio Padre ad ascoltare il Figlio nel quale Egli ha posto il suo compiacimento rappresenta il centro, il momento essenziale. A questo invito, che è un invito decisivo nella progressione anche del nostro cammino quaresimale di conversione siamo chiamati a rispondere mediante la professione di una fede rinnovata nella persona di Gesù Cristo Riscoprire la nostra fede in Gesù Cristo significa affidarsi alla sua grazia fare esperienza del suo amore della sua presenza viva nella Chiesa e nel mondo e questo affidarsi alla grazia, all'amore di Cristo significa prima di tutto riconoscere in Gesù Cristo Figlio di Dio fatto uomo l'unico Salvatore del mondo l'unica via che ci permette di entrare in comunione con la vita dell'unico Dio in tre persone l'amore di Cristo ci spinge ci sollecita a salire il monte del Signore per stare con Lui nutrirci di Lui nell'Eucarestia ascoltare la Sua parola pregustare la Sua gloria cui siamo chiamati a partecipare attraverso il mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo e l'adesione della nostra fede l'esperienza dell'amore di Cristo ci aiuta prima di tutto a resistere alle tentazioni di affidarci agli idoli ai modelli che il mondo ci propone e che non possono salvarci ci aiuta poi a comprendere che soltanto camminando sulle orme di Cristo lungo la via della croce dell'uscita dal proprio egoismo dall'autoreferenzialità e intraprendendo il cammino difficile dell'obbedienza della fede della perseveranza solo così possiamo sperimentare la libertà dei figli di Dio infine l'esperienza dell'amore di Cristo ci aiuta ad amare Dio e gli altri in modo incondizionato e fedele come Cristo ci ha insegnato e ci ha dimostrato chiediamo quindi al Signore di donarci la grazia di conoscere Gesù Cristo sempre meglio per porre in Lui la nostra fiducia e confidare in Lui per realizzare il nostro desiderio profondo di felicità eterna